Una decisione esemplare.Davvero Hilary Blasi è in attesa del quarto figlio? Non sappiamo se questa notizia sia vera, ma, una cosa è certa, le sue ultime decisioni stanno facendo il giro del web La Blasi, che quest'anno abbiamo visto nella terza edizione del Grande Fratello Vip, aveva espresso un desiderio in una vecchia intervista concessa al Settimana Leggente Mi piacerebbe un'esperienza all'Ordes. Accompagnare i malati, la gente che va in pellegrinaggio, che è una cosa che sogno di fare da anni Ho avuto tanto dalla vita, non lo dimentico. Penso che sia giusto e bello dedicarsi anche a chi ha bisogno In occasione delle festività pasquali di quest'anno, quindi, la conduttrice romana, moglie dell'ex capitano della Roma, Francesco Totti, ha realizzato questo suo sogno, diventare una dama, e dedicarsi completamente ai bisognosi che si recano all'Ordes . Le dame sono coloro che si occupano totalmente dei malati nel corso del loro pellegrinaggio verso il santuario di Nostra Signora di Lourdes che indossano gli abiti tipici delle suore laic . L'esperienza di Ilari Blasi all'Ordes, è stata immortalata dalla settimanale Chi che ha pubblicato alcune foto, e chi ha documentato l'intera esperienza della conduttrice . Complimenti ad Ilari per questa sua nobile scelta.Sorprese infinite.Non sappiamo se Ilari Blasi sia in attesa del quarto figlio . Quello che è certo è che la conduttrice 38enne è partita alla volta della Francia insieme ad una sua amica, Morena Salvino, anche lei nota al pubblico televisivo per essere stata una letterina di passaparola, lasciando il marito Francesco Totti e i loro tre figli, Cristian, Chanel e Isabella Roma . La sua esperienza a Lourdes è durata circa due giorni.Dopo aver vissuto quest'esperienza importante, Ilari Blasi è stata accolta dal marito, insieme ai loro amici, con una festa a sorpresa, per il suo compleanno, che si è tenuta a Monte Carlo . Niente GFV.S e Ilari Blasi sia in attesa del quarto figlio lo scopriremo prossimamente, ma, una cosa è certa. Ilari Blasi è fuori da Mediaset . Secondo le ultime indiscrezioni infatti la nuova edizione del GFVip, sarà condotta da Alessia Marcuzzi . Il reality show di Canale 5 giunto alla sua quarta edizione, potrebbe vedere un considerevole cambio di guardia alla conduzione, secondo quanto riferito dai rumors diffusi da un otto settimanale, la moglie di Francesco Totti, non sarà più la timoniera del grande fratello Vip, che si vedrà sostituita dalla conduttrice dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi .